I miei personaggi preferiti sono l'autore di Miskabayashi, Kidi Akali e soprattutto Soraka Star Guardian di League of Legends. I cosplay li realizzo un po' e un po', diciamo un po' comprati e un po' craftati. Mi piace fare il make-up soprattutto, me lo invento da sola, li creo da sola il make-up e alcuni pop li realizzo io con queste ali e le ho realizzate da sola. Sono Anna delle Vergini di Southlap Cosplay e sono qui in veste di Cosmaker al Big Geek. Non è la mia prima esperienza nelle fiere pugliesi soprattutto, ma mi è capitato volentieri di girare altre fiere. Si va a modellare il pezzo per dargli una volta. Utilizziamo una pistola termica. La Pistola delle Messe è un'associazione brico-culturale per figuranti, barra post player, che si sposta in tutta Italia. alle radici in Coscana, noi siamo diventati uno succursale pugliese e ci spostiamo per tutte le regioni, per tutte le fiere, eventi, anche feste, dove ci richiedono. Noi siamo Elem Cosplay, io sono Luana e lui è il Raffaele. Salve, salve. Ci occupiamo principalmente di prop e di armature. Questo in particolare è realizzato, c'è una piccola batteria, un Arduino, dei LED e una pompetta ad aria. Ciao a tutti, sono Sara e il nome d'arte è l'impario e oggi porto un original che ho inventato io, ispirato all'unico puglietto. Deo? Ok, resti tu a casa e proprio volete che mi presenti. Io sono Chiara Di Berardo, in arte e guiccian cosplay e oggi porto Gwen Stacy dal nuovo film Spider-Birds, che anche ha vinto l'Oscar. Ciao, io sono Romina, in arte Liglie Moriril e oggi porto una versione un po' original di Rapunzel e della Disney. Il mio cosplayer femminile è... Ooooooo... Numero 6! Federica con Astrid! Sono Federica, sono una cosplayer dal 2010. E il personaggio che sto interpretando è Astrid dal film Dragon Trigger 3. E' sempre bello salire sul palco e interpretare i personaggi che ci assomigliano, ci piacciono e far vedere poi il lavoro completo dei costumi. E' una passione, perchè stare qua dentro per ore e ore è un po' difficoltoso e niente, sono contento di fare questa cosa. Musica Noi siamo la compagnia d'arma e strato, si ricerca, ricostruzione e divulgazione. Ormai da 20 anni noi ricostruiamo praticamente su tre periodi storici, dal 1000 al 1100, il 1200 e il 1600. In tutto questo ambito noi rievochiamo anche il combattimento da trattati storici, come era la scherma, che va dal corpo a corpo fino alla spada, la spada con lo scudo, lancia, fino poi arrivare alle vere e proprie battaglie che ne rievochiamo anche in tutta Europa, non soltanto nella zona di Bari, diciamo così. Ah ragazzi, tiro con l'arco compreso, tiro con l'arco storico ovviamente compreso. Musica Musica Ciao amici, noi siamo le stelle di Okuto. Una band coloratissima, in costumissima, scostumata, molto scostumata, portiamo dal vivo le sigle dei cartoni animati della nostra infanzia. E non solo, non solo, anche con il sonore, il film, il telefilm, ci piace proporre uno spettacolo fatto di sketch, di costumi, come avete visto. Perché abbiamo scelto questa infausta strada? Eh beh, tutto è cominciato dieci anni fa. In Italia si affacciavano le prime cartoon cover band, ma qui in Puglia non c'era nulla. E allora abbiamo battuto questa pista anche perché un po', diciamo, ci piaceva. Grazie 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 Grazie